Un breve saluto da Qumran, un sito archeologico importantissimo sulle sponde del Mar Morto che vedete alle mie spalle. Eccolo qui, qui una comunità di monaci chiamati Esseni studiava e viveva la parola cercando di mettere in pratica la Torah attraverso la purificazione rituale. E' uno stile di vita comunitario molto molto rigido.